Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della mia fantastica Candy Craft, il mio mondo ufficiale di Minecraft. Gli scorsi episodi vi sono piaciuti veramente tantissimo e io vi ringrazio, mi raccomando continuate a lasciare sempre tanti mi piace. E oggi, come vedete, ci troviamo con la versione 20W45A che sarebbe lo snapshot iniziale della 1.17. Molti a volte sono confusi e mi dicono, ma Kendall come fai a giocare alla 1.17? Se voi andate nel vostro menu di Minecraft potete cliccare abilita snapshot, così potete giocare all'ultimissima versione che è stata rilasciata una settimana fa. Allora, qualche giorno fa abbiamo completato la collezione delle armature, abbiamo incertato tutto quanto e alcuni nel video mi hanno detto, ma Kendall non hai speso 100 livelli per quell'armatura? Lo so ragazzi, ma sarebbe stato brutto se scrivevo spendo 41 livelli per un'armatura, quindi ho arrotondato un pochettino in eccesso, lo so. E anche in questo video ragazzi spenderemo i 44 livelli che abbiamo, e vi posso assicurare che probabilmente lo chiamerò 100 livelli, per creare una delle cose più stupide di questo gioco. Però io non ho ancora l'advancement, perché ci ho provato qualche tempo fa, ora non mi ricordo neanche dove si vede, ci ho provato a ottenerlo, però ci ho provato nella 1.16, quando già avevano giunto la nederite. Tutti mi avete detto nei commenti, Kendall non puoi più farlo con la zappa in diamante, devi farti una zappa in nederite. Molti di voi sicuramente sanno già di che cosa sto parlando, per chi invece non l'avesse ancora capito, esiste un achievement, ovvero un avanzamento del gioco, che sarebbe come questi qua in pratica, che consiste nel distruggere una zappa. Inizialmente era una zappa in diamante, perché era il materiale più potente, adesso è diventata una zappa in nederite, quindi, cosa devo fare? Probabilmente vi starete chiedendo. Prima di tutto devo craftare una zappa in diamante, perché a quanto pare non ce l'ho, io ero convinto di averla. Zappa in diamante? No? Niente? Non ce l'ho proprio? C'ho soltanto una zappa in oro? Ok. Allora, fatemi spiegare un pochettino. Esiste questo avanzamento, che se tu rompi la zappa, in questo caso in nederite, ti dice tipo... Sei un temerario, bravo, continua così, perché ci hai messo tantissimo tempo a farla. Ah, ma io posso prendere direttamente... C'ho già i lingotti. Il problema qual è, ragazzi? Che per rompere una zappa in nederite ci vuole una quantità di tempo infinita, probabilmente anche un'ora, non ne sono sicuro. Adesso, prima di tutto, noi la craftiamo. Che cavolo sto facendo? Ma sono stupido. Si vede che non gioco a Minecraft da tanto tempo. Scusatemi, avete ragione, ogni tanto divento un nabbo pure io. Certamente, prima devo craftare la zappa in diamante, perché utilizziamo il lingotto in nederite per trasformarla. Ok, ecco qua. La zappa. Sì, una zappa. Là, c'abbiamo lo smithing table. Mettiamo la nostra... Aia. Mettiamo la nostra zappa, mettiamo il nostro lingotto. Ed ecco qua la zappa in nederite. E... No, cosa? Mi ha... Perché me l'ha già dato? Mi ha già dato l'achievement! Ma... No, aspetta, non può essere. Deve essersi sbagliato. Questo non può essere l'achievement che cercavo io, no? Allora, io, ragazzi... Allora, a me, ragazzi, piacerebbe completare totalmente Minecraft. Quindi voglio avere tutti gli achievement sbloccati. E sicuramente me ne mancano ancora molti. Ok. Mi ha dato il primo avanzamento, ovvero craftare una zappa in nederite. Che è una cosa stupida. Nessuno lo dovrebbe fare. Non lo fatelo. Sprecate soltanto dei lingotti. Quel che devo fare adesso è consumare questa zappa fino a distruggerla. In questo modo mi darà un altro avanzamento che io voglio collezionare. Ma ovviamente per rendere il tutto ancora più difficile, perché a me piacciono le sfide, le challenge, cercherò di enchantare questa zappa in nederite con il massimo dei livelli. Quindi 30 livelli. Vediamo cosa esce fuori. Fortuna 3! Cosa può uscire? Che razza di fortuna puoi avere da una zappa? No. Fortuna, efficienza e indistruttibilità. Ok, sarà letteralmente impossibile distruggere questa zappa. Io penso che ci vorranno almeno un'ora. Secondo me un'ora ci vuole... Sì, sì, anche di più probabilmente. Ah, tra l'altro, mi avete detto tutti quanti di mettere le elitra rotte in questa seconda mano, farmare un pochettino di livelli in modo tale che così si ripareranno. Ora, io non credo funzioni, perché alcuni mi dicono che devo ottenere la membrana del phantom e altri invece mi dicono che basta fare così. Quindi ora ci proviamo. Voglio vedere se avevate ragione o meno. Per farmare i livelli, beh, sapete già cosa farò. Vediamo se si riparano. Funzionerà? Oh mio Dio, avevate ragione. Siete dei geni. Siete dei geni, guardate. Si stanno riparando, le devo soltanto tenere in mano. Guardate, guardate. A forza di prendere livelli su livelli su livelli, piano piano si stanno riparando. Io non ho dormito per notti intere per ottenere le membrane del phantom, che non me le hanno mai droppate, tra l'altro. E mi bastava semplicemente fare così. Per fortuna che leggo i vostri commenti. Grazie, 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 grazie a tutti quanti. Ok, bene. Adesso le mie elitra si sono riparate un pochettino. Quindi cosa dobbiamo fare, ragazzi? Io non voglio assolutamente distruggere il mio mondo di Minecraft. Quindi per fare questa challenge direi che possiamo andare da qualche altra parte. Sì, 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 sì. Dobbiamo andare lontani, ma allo stesso tempo dobbiamo essere vicini. Capito? Dobbiamo trovare un posto con una prateria. Allora, facciamo così. 3, 2, 1. Vai! Molto bene. Allora, là c'è la casa di Carli. Qua c'è la mia casa delle vacanze. Andiamo avanti. Ci serve una bella pianura. Un posto tutto pianeggiante da poter... Da poter zappare per un'ora intera. Ecco, di qua c'è la foresta, quindi direi di no. Magari di qua. Oh, 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 perfetto! Bingo! Adesso atterriamo con molta gentilezza. Ottimo. Non si sono rotte. Perfetto. Io sono ben protetto, c'ho tanto cibo. Adesso non mi resta che... Ma perché lo faccio? Ma non posso fare dei video più semplici. No, io mi devo sempre complicare la vita. Adesso dobbiamo utilizzare questa zappa fino a che non si distruggerà. Ci vorrà tanto tempo. Credetemi, ci vorrà tanto, tanto tempo. Sapete cosa? Adesso voglio proprio cronometrare il tutto. Sono le 19 e 17. Se non mi credete, guardate, faccio lo screenshot. 19, 17, 35. Voglio vedere quanto tempo ci metterò. E per ogni minuto che passa, voi dovete lasciare 1000 mi piace. Se ci metto 60 minuti, questo video deve raggiungere 60.000 mi piace. Ok, dai, non penso di metterci veramente un'ora. Allora, posso fare... Se clicco F3 più H, con F3 più H mi fa vedere quanta durabilità c'ha. 2200 utilizzi. Devo cliccare 2000 volte per romperla. Tutto questo per una stupida challenge. Ovvero quella di volerla rompere. Tra l'altro, io non sono neanche sicuro che l'achievement esista più. Perché un tempo c'era. Se tu rompevi la zappa in diamante, ti dava l'achievement con scritto, se non sbaglio, sei un temerario, una roba del genere. Perché ci mettevi tantissimo tempo a romperla. Adesso io spero non l'abbiano tolta. Perché se hanno tolto quell'achievement, quella challenge, io sto praticamente perdendo del tempo. E probabilmente voi vi starete mettendo a ridere perché... Sembra uno stupido. Ok, zappiamo tutto quanto il nostro mondo di Minecraft è tutto. Devo proprio zappare tutto quanto. Purtroppo quando però ci sono le erbette, non riesco a farlo. Ok, vediamo un pochettino quanto ce ne restano. 1951, fantastico. E sono già passati tre minuti. Bene, ci vediamo dopo, quando la situazione sarà un po' migliorata. Ma sì, aggiungiamo indistruttibilità 3, che vuoi che sia. Perché devo sempre complicarmi la vita, eh? Già era difficile come sfida normalmente. Figurate adesso che c'ha pure indistruttibilità 3. Beh, ragazzi, mentre io faccio questa stupidaggine, raccontatemi qualcosa. Scrivete nei commenti, non lo so, una storiella. Qualcosa che vi è capitato in questi giorni. State bene, me lo auguro, ovviamente. Da quanto tempo mi seguite. Non lo so, raccontatemi qualcosa così io leggo i commenti. Oh, che bello. Finalmente vedo una piccolissima tacchetta che manca alla mia zappa. Wow. Credo che questa sia la cosa più stupida che io abbia mai fatto in Minecraft. Sì, decisamente. È una challenge stupida, inutile, che non ha chiesto nessuno. Ma che mi auguro possa piacere. Come intrattenimento proprio, per vedermi soffrire. Piccolo aggiornamento. La situazione è questa. Abbiamo superato la metà. Siamo a 975 utilizzi per questa zappa in nederite su 2031. Quindi devo rompere altri 970 blocchi. Sì, l'avete capito bene. Sono tanti, ragazzi. Credetemi. 960 blocchi sono un bel po'. Infatti al momento sono le 19.46. Proprio come potete vedere nello screenshot. E se non sbaglio avevo iniziato e 17? Vabbè, ragazzi. Io continuo e poi taglierò non appena avremo gli ultimi 10 utilizzi nella zappa in nederite. Ci vediamo dopo. Restate sintonizzati. Anzi, voi lo vedrete tra un secondo. È arrivato il momento di tornare a casa. E probabilmente vi starete chiedendo. Perché, Kendall? Che cosa stai facendo? Perché stai tornando a casa? Non ci hai ancora fatto vedere la distruzione della zappa in nederite. In realtà devo comunicarvi che mi si è rotta mentre non stavo più registrando. Ci avete creduto? Ma va, ragazzi. Figuratevi. Sono stato qua un'ora intera. Adesso ha soltanto 67 utilizzi. Che ovviamente vi farò vedere tutti quanti. Quindi iniziamo a consumarla totalmente. Non vedo l'ora di ottenere l'achievement. Se non ottengo l'achievement me ne vado via piangendo. Sono... Vi faccio vedere che ore sono. Sono le 20.06. Quindi è passata praticamente un'ora da quando ho iniziato questa avventura. Questa impresa. Questa challenge impossibile. È stupida. Estremamente stupida. Però io sono una persona che persevera. Quando mi metto in testa una cosa, la faccio. E infatti siamo arrivati alla fine di questa sfida impossibile e ardua. Abbiamo gli ultimi 24 utilizzi. Che, per chi non lo sapesse, visto che hanno... Visto che questa zap ha di indistruttibilità 3, non sono... Cioè non è che clicchi una volta e ti va via un utilizzo. Devi cliccarci 3 volte. Visto? Con 3 click va via un utilizzo. Quindi io in pratica ho scavato la bellezza di 6000 blocchi. Ma niente di che. Siamo a 16 utilizzi. Manca pochissimo, ragazzi. Manca pochissimo. Rompiamo anche questa croce di aerobrine. Perfetto. Quanti? Quanti? 2! Adesso? 1! È giunto il momento, ragazzi. L'ultimo utilizzo. Siete pronti? 3, 2, 1... No. No, 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 no. No. Chiudo il video. Ciao. Ciao.